Dopo le frizioni nella maggioranza di centro-destra era stato in qualche modo anche evocato l'intervento del sindaco Ghinelli che in effetti c'è stato perché la riunione del vertice di maggioranza è stata anche una riunione politica. Possiamo dire che è stata presieduta dal sindaco in questo caso quindi anche con una funzione di capo politico di questa alleanza. Sicuramente sì, è un ruolo che mi compete, mi spetta e che io tendo a svolgere in misura minimale perché finora non ce n'era stato bisogno di ricomporre frizioni politiche o dissidi interni alla maggioranza. Questo è stato il caso e quindi mi è stato chiesto espressamente ma comunque l'avrei fatto anche se non me l'avessero chiesto perché questa belligeranza continua tra i due partiti che hanno evidentemente problemi di identificazione nel senso che hanno una parte di elettorato in comune e quindi cercano di accaparrarsi il maggior numero di voti. Vi ricordo che in consiglio comunale siedono per la maggioranza sei consiglieri della Lega, sei consiglieri della lista civica, sei consiglieri di Fratelli d'Italia, quindi sono partiti che si equivalgono e che ovviamente cercano di portare consensi dalla loro parte. Talvolta assumendo atteggiamenti che dall'altra parte sono letti in maniera arrogante e non perfettamente in linea con i comportamenti che un alleato dovrebbe avere. Se su questo ci sommate anche quello che avviene tra Fratelli d'Italia e Lega perché uno sta nel governo e uno non ci sta, questo intervento era necessario. Il clima è stato a questo punto, lo possiamo considerare ristabilito e anche l'atto che tra l'altro sarà, se non ho capito male, proprio oggi c'è l'invio della lettera a tutti i consiglieri comunali per rendere esplicita e anche pubblica la loro eventuale collaborazione con le società delle quali si parla. Sì, diciamo che si è ricomposto tutto, tra l'altro in questa stanza, senza eccessive difficoltà. Cioè tutti hanno capito che non era il caso di puntare l'indice nei confronti di chi lavora nei confronti di una società o un'altra. E quindi nell'ambito della trasparenza io lo chiedo ai consiglieri, che avete da dirmi, visto che è stato sollevato il tema e a questo punto riceverò n risposte. Una parte delle quali, peraltro, le ho già ricevute da Coingas perché loro, essendo una società sulla quale, diciamo, io ho influenza diretta perché ne sono proprietario al 45%, ho potuto chiederlo e ho avuto risposta. E poi Coingas che ha scritto a destra per avere lo stesso tipo di informazione ma non sappiamo se arriverà o non arriverà. E quindi su questo ho dato la mia proposta ai partiti e l'hanno condivisa. Scrivo io ai consiglieri, mi diranno loro chi ha avuto incarichi e chi no. È stata anche l'occasione per discutere e affrontare tematiche anche di tipo amministrativo oppure, come pare dall'esterno, non ci sono in realtà contestazioni rispetto all'azione di governo? No, non ci sono. Sono tutti contenti di quello che stiamo facendo. Tutti i partiti hanno una rappresentanza qualificatissima in giunta e tutti ovviamente non solo sono informati rispetto alle decisioni che si prendono ma ne sono partecipi. Quindi diciamo che la maggioranza sul tema amministrativo viaggia a raggi compatti ormai da quasi sette anni. Io posto sul tavolo però dei temi che in qualche maniera escono dalla nostra città perché sono temi sovracittadini. Mi riferisco al tema multiutility, al tema della stazione alta velocità e a un tema ancora più generale che è quello del riassetto del sistema istituzionale amministrativo italiano nella metà del guado in cui ci troviamo con la non completa applicazione della Del Rio. Mi riferisco alle province. Come sapete le province sono ente di secondo livello, così come definite dalla Del Rio ma non sono mai giunte a compiuta giacenza, potremmo dire, e oggi sono state sostanzialmente congelate in questa posizione con le due deleghe, peraltro molto importanti, su infrastrutture e scuole. Tutto il resto? Chi è che coordina un territorio provinciale? Allora l'idea che in Anci è maturata da tempo è quella di affidare questo ruolo alle città capoluogo, a quelle che noi chiamiamo città medie. Io ho l'onore di essere il coordinatore nazionale delle città medie italiane e quindi su questo tema ho aperto la discussione, perché è una discussione che non riguarda soltanto Arezzo, ma riguarda tutte le città capoluogo di provincia che sono, sapete, una novantina, su cui tema i partiti devono prendere posizione, perché poi quello che Anci propone lo deve approvare il governo. Ecco che il vedere a Roma un governo in cui il centrodestra sta mezzo dentro e mezzo fuori un pochino mi disturba anche a me, molto meglio sarebbe, era stato il conte 1 in cui c'erano tutti dentro il governo. Visto che si parla di questioni e anche di riforme, dibattito aperto sulla multiutility regionale, sul quale appunto la posizione del sindaco Ghinelli non è di un no a prioristico. Assolutamente no, tra l'altro il tema multiutility, noi l'abbiamo percorso, abbiamo tentato di percorrerlo diciamo attraverso il soggetto che per noi fornisce un servizio a rete e che è Estra, nella quale entriamo attraverso Coingas. E in quel caso è stata Estra che, diciamo, condividendo io con il sindaco di Siena, con il sindaco di Prato, Biffoni, il tema della espansione del servizio che Estra poteva in quel momento produrre, Estra comprò delle quote di 6 Toscana per entrare anche nel tema dei rifiuti. Questa iniziale idea percorsa in questo senso è poi stata sostanzialmente modificata in un'idea ancora più ambiziosa, che è quella di creare una multiutility toscana per i servizi, un po' come ERA, un po' come ACEA o come A2A. Ecco, questo tema è corretto per come è posto, creare una multiutility toscana, però il disegno che mi è stato rappresentato in questo momento non trova il mio favore, perché c'è una sorta di commistione non chiara tra gestione e parte politica e non si capisce in capo a chi è la governance, chi è che decide cosa fare e come, i sindaci o il soggetto privato che poi gestisce e fa il servizio. Allora la mia idea è ancora diversa, è quella di produrre un po' come sta facendo lato Toscana Sud, anche lì ho un ruolo un po' privilegiato perché ne sono presidente. C'è un'assemblea di 104 sindaci, che non è uno scherzo da tenersi, la quale dà indirizzi e poi controlla e sulla base del controllo modifica gli indirizzi se necessario, a un gestore che è un soggetto terzo, col quale io mi interfaccio ma che non ha nulla a che vedere con me, anzi io col gestore ho rapporti talvolta anche tesi, perché io gli ho concesso un servizio, ricordo anche che ho letto sui giornali un numero sbagliato, in 20 anni il servizio è stato affidato per 3 miliardi e mezzo di euro, non per 3 milioni e mezzo di euro, quindi è un servizio pesante dal punto di vista dell'affidamento, ma i sindaci devono tenere il boccino in mano e i sindaci del sud della Toscana hanno imparato a farlo. Le decisioni che prendiamo, talvolta maggioranza, molto spesso all'unanimità, hanno l'obiettivo di dare al gestore quei limiti, quei controlli e quelle finalità utili ai territori. Poi è evidente che l'isola d'Elba decide in un modo, Montemignaio decide in un altro e Arezzo in un altro ancora, però si è riuscita a trovare dentro l'unico ato Toscana-Sud delle suddivisioni territoriali che grosso modo corrispondono a quelle delle province. Vedete come il discorso provincia o città-capoluogo ritorna, ancora una volta, perché quello è l'ambito territoriale ottimale sul quale, come sindaco di Arezzo, insieme alla provincia, posso contemperare le esigenze di Montemignaio con quelle di Foiano, perché si sta in un ambito territoriale che culturalmente, geograficamente e politicamente ha divisioni politiche per quello che riguarda i partiti, ma non ha divisioni politiche per quelli che sono i bisogni dei cittadini e quindi in quest'ambito territoriale di sotto insieme rispetto alla Toscana-Sud riusciamo a dare i nostri indirizzi correttamente. Lo spazio era giusto per l'approfondimento e le faccio un'ultima domanda. Venerdì ci sarà il pronunciamento del TAR sulla questione di Estra. Per quanto tempo Arezzo potrà fare a meno di un ruolo importante come la presidenza di Estra? Beh, è evidente che in questo momento noi siamo in difficoltà, perché quel ruolo di presidenza che ANAC ci ha sostanzialmente azzerato è tenuto ad interim dall'amministratore delegato e dal dottor Piazzi, che lo svolge egregiamente, però non può rappresentare le istanze retine. E quindi mi auguro che questa decisione del TAR possa portare chiarezza, perché si tratta di capire come poi la società che è Estra, che deve decidere come fare, vuole comportarsi. Certo, per noi è essenziale che proprio nel momento in cui si parla di molti utility ci sia la voce di Arezzo dentro il Consiglio di amministrazione di Estra. È troppo importante per noi il tema e quindi dobbiamo prescindere dalle appartenenze, dobbiamo prescindere dai impersonalismi, dobbiamo ritornare alla città come centro di attenzione e in questo caso di strategia politica.